Carolina, e il cognome? Io, non è molto italiano, c'è, c'è. Ok, ok. Allora, Luigi Eddo. Ok. C'è un'altra cosa? Un'altra cosa? Un'altra cosa? Un'altra cosa? Un'altra cosa? Un'altra cosa? No, come c'è un'altra cosa? Un'altra cosa? e così mi riposo un po' assim ecco qua siamo piccoli è un pensiero che faccio così lei quando guarderà questo discorso si ricorderà del Portland e di questo giorno anche a lei, molte grazie, ok, grazie mille, va benissimo